Arresti domiciliari per Luigi Bisignani e stessa richiesta per il parlamentare del PDL, Alfonso Papa. Questa la decisione del Tribunale di Napoli che indaga su quella che i giudici sospettano sia un'agenzia di informazioni clandestina con l'obiettivo, sostengono i PM di Napoli, di gestire e manipolare informazioni segrete o coperte da segreto istruttorio. L'associazione a delinquere, si legge nel capo di imputazione, è finalizzata anche a controllare appalti e nomine. Questo è l'obiettivo con il quale sarebbe sorta la cosiddetta P4, che secondo gli investigatori avrebbe anche interferito sulle funzioni di organi costituzionali, condizionandone le scelte. A questa agenzia clandestina partecipano, secondo i giudici, anche un carabiniere e un agente di polizia. La Camera esaminerà il caso Alfonso Papa il 22 giugno. L'interessato dice di non aver ricevuto nessuna comunicazione e di essere assolutamente sereno e aggiunge che a suo parere si tratta di una elucubrazione complottistica. Bisignani non è nuovo a traffici segreti. Il suo nome è nella lista P2, anche se lui nega, così come il Presidente del Consiglio, ed è stato condannato con sentenza definitiva a due anni e sei mesi per la maxi tangente Enimont, in cui il frangente e il suo punto di forza era di disporre di un conto all'Istituto per le Opere di Religione, l'OIOR, la potente e impermeabile Banca dello Stato del Vaticano. Secondo l'ex amministratore della Montedison, Sama, attraverso lo IOR, Bisignani ha trasformato CCT in contanti per 92 miliardi di lire usati per distribuire tangenti.